La conversione passa dalla condivisione, è il concetto forte dibadito da Papa Francesco nella catechesi all'udienza giubilare in piazza San Pietro. Il pontefice ha ricordato che nella predicazione dei profeti la conversione era un ritorno al Signore per chiedere perdono e un cambio di marcia nella propria vita. Gesù però insiste, ha evidenziato il Papa sulla dimensione interiore della conversione, è infatti la prima parola della sua predicazione, convertitevi e credete al Vangelo. È un pieno coinvolgimento di mente e cuore, un vero rinnovamento della persona come accadde a Matteo e Zaccheo. Gesù non si erge a giudice delle persone, ha affermato il pontefice, ma condivide, si fa prossimo, cammina sulla stessa strada, abita nella stessa casa, mangia alla stessa mensa. Quante volte, aggiunto, ci sentiamo inquieti perché non felici del cammino intrapreso dentro una vita inutile eppure cambiare si può, afferrando la mano tesa di Gesù che stravolge il cuore e ci rende migliori. Seguiamo, dunque, questo invito del Signore e non poniamo resistenze, perché solo se ci apriamo la sua misericordia, noi troviamo la vera vita e la vera gioia. Soltanto spalancare la porta e Lui fa tutto il resto. Lui fa tutto, ma spalancare il cuore perché Lui possa guarire e portarci avanti. E vi assicuro, saremo più felici. Grazie.